Musica Potenza è tra i 136 comuni italiani che domani andranno al ballottaggio. Urne aperte dalle 7 alle 23 in sfida a Mario Guarente per il centrodestra e Valerio Tramutoli della Basilicata Possibile. Ieri gli appelli finali, oggi giornata di silenzio elettorale. Inchiesta sulle presunte gare pilotate a Melfi, ieri davanti al GP il sindaco Livio Valvano e il presidente del Consiglio Comunale Simonetti. Volevo un grande progetto per il millenario, si è difeso così il primo cittadino. Entra nel vivo l'ultima fase del progetto di potenziamento della linea ferroviaria Appoggia Potenza. Entro il 2023 sarà elettrificata e verranno eliminati 26 passaggi a livello e da domani entra in vigore l'orario estivo di Trenitalia. Durerà almeno una settimana l'ondata di caldo africano che sta interessando la nostra regione e le previsioni dell'esperto Gaetano Brindisi. Grande successo per la prima di Click & Slurp, lo spettacolo dell'attore comico Mario Ierace, il cabarettista di Potenza, è tornato a teatro con una performance da monologhista. Divertimento e risate fino al 10 giugno al piccolo principe di Potenza. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova TV, lo avete sentito dai titoli in apertura. Nel nostro TG di oggi c'è la politica, Potenza e tra i 136 comuni italiani che domani andranno al ballottaggio. Urne aperte dalle 7 alle 23. In sfida Mario Guarente per il centrodestra e Valerio Tramutoli della Basilicata Possibile. Ieri gli appelli finali, oggi giornata di silenzio elettorale. Sentiamo Michelangelo Russo. Sono 136 comuni interessati ai ballottaggi di domenica per le elezioni amministrative che si sono svolte il 26 maggio scorso. Di questi sono 124 i comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, dei quali 15 capoluogo. Tra questi c'è anche Potenza. I 5 Stelle si ritrovano al ballottaggio solo a Campobasso, ma sono in più realtà l'ago della bilancia che determinerà la vittoria di uno o dell'altro candidato negli altri 14 ballottaggi principali, anche se indicazioni ufficiali di voto poi non ce ne sono. Le sfide vedranno contrapposti per la stragrande maggioranza dei casi candidati del centrosinistra o del centrodestra. Al primo turno delle comunali che si sono svolte 15 giorni fa, il centrosinistra ha confermato la guida di Firenze e Bari tra i capoluoghi di regione. Bergamo, Modena, Pesaro e Lecce tra quelli di provincia. Il centrodestra ha confermato invece Perugia e Vibo Valencia ed è riuscito a strappare al centrosinistra la guida di Pescara e Pavia. A potenza sarà sfida tra Mario Guarente del centrodestra e Valerio Tramutoli della Basilicata possibile. Al primo turno Guarente ha ottenuto il 44,7% delle preferenze e Tramutoli il 27,4%. In virtù di queste percentuali il premio di maggioranza sarà stabilito solo dopo il ballottaggio senza rischio della cosiddetta anatrazoppa. I due candidati correranno ciascuno con le proprie liste senza nessun accordo con altre coalizioni. A sostegno di Mario Guarente, lo ricordiamo, ci sono sei liste. Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista Civica per la città, Idea e Potenza Civica. Due le liste a sostegno di Valerio Tramutoli, la Basilicata possibile e Potenza Città Giardino. Da sottolineare che Tramutoli non ha accettato alcun apparentamento con il centrosinistra targato PD e MDP, ma che molti esponenti del centrosinistra hanno dichiarato sostegno al professore. Nessuna indicazione di voto ai propri elettori è arrivata invece dal Movimento 5 Stelle con il candidato Falconeri che nei giorni scorsi ha detto a chiare lettere il Movimento non fa alleanze con nessuno. Agli elettori, ora l'ultima parola. Si vota dalle 7 alle 23. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Ho parlato con l'imprenditore Francesco Roberto, ma solo per prospettargli l'ipotesi di un progetto legato alle celebrazioni del millenario di Melfi. Si è difeso così ieri mattina davanti al GIP del Tribunale di Potenza il sindaco di Melfi, Livio Valvano, sottoposto al divieto di dimora nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte gare pilotate per favorire ditte amiche. Il primo cittadino ha deciso di rispondere a tutte le domande durante l'interrogatorio di garanzia ha durato circa un paio d'ore, precisando anche motivi che hanno portato ad emettere l'avviso pubblico quasi oltre il termine utile. Anche Luigi Simonetti, dimessosi nel frattempo dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale, ha risposto a tutte le domande, provando a chiarire la sua posizione in relazione ai fatti contestati. Il suo interrogatorio è durato un'ora e mezza. Simonetti ha detto al GIP di avere sempre agito nel rispetto delle leggi. Al primo degli eletti, in seguito alle amministrative del 2016, viene contestata una corruzione elettorale che avrebbe visto l'imprenditore Ferrieri, finito e domiciliari, garantire voti a Simonetti in cambio dell'affidamento di lavori pubblici all'impresa edile di famiglia. Entra nel vivo l'ultima fase del progetto di potenziamento della linea ferroviaria Potenza-Foggia. Entro il 2023 sarà elettrificata e verranno eliminati 26 passaggi a livello. E da domani entra in vigore l'orario estivo di Trenitalia. Sentiamo tutti i dettagli da Celestino Benedetto. Rete Ferroviaria Italiana ha avviato le procedure di gara per l'elettrificazione della prima tratta Rocchetta Potenza. L'appalto include la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere e prevede l'elettrificazione della linea lunga 69 chilometri. Entro la fine dell'estate RFI avvierà anche la gara per elettrificazione della seconda tratta Cervaro Rocchetta San Nicola di Melfi lunga 54 chilometri che sarà ultimata a fine 2022. L'intera linea Foggia Potenza invece è a fine 2023. Nell'ambito degli interventi di potenziamento è prevista anche l'eliminazione di 26 passaggi a livello che si avvierà entro la fine del 2020. Già completati o in dirittura d'arrivo entro fine anno numerosi interventi dal rinnovo dei binari su tutta la linea, le modifiche del piano regolatore e degli impianti di sicurezza alla realizzazione di sottopassi viaggiatori all'adeguamento dei marciapiedi in quattro stazioni e all'aggiornamento del sistema di informazione al pubblico. Intanto da domenica 9 giugno più corse con l'orario estivo di Trenitalia. In Basilicata ha confermato il collegamento Frecciarossa-Milano-Taranto. Inoltre nel fine settimana e fino al 15 settembre due Frecciargento-Roma-Reggio Calabria collegheranno la capitale con Maratea in poco più di due ore e mezzo. Dal prossimo cambio orario saliranno a quattro gli intercity da e per Roma che fermano a Bellamuro. Da segnalare corse speciali Freccialink da e per Potenza e Matera con il servizio integrato Treno più Bus di Trenitalia da Salerno. Da Matera basteranno 5 ore e 15 minuti per arrivare a Roma Termini, 7 ore e 25 per Bologna Centrale e 8 ore e 50 minuti per Milano Centrale. Parliamo ora del decreto sicurezza. La giunta regionale Bardi ha deciso di ritirare il ricorso presentato alla Corte Costituzionale. 7 le regioni italiane che avevano promosso il ricorso di incostituzionalità delle norme sull'immigrazione del decreto Salvini dell'ottobre 2018. La decisione di avanzare il ricorso alla Corte Costituzionale rientrava tra gli ultimi atti varati dalla giunta capeggiata dalla governatrice facente funzioni Flavia Franconi. Quella fu un'azione che era partita quasi esclusivamente da governi regionali di centro-sinistra in corsa. Restano le altre 6 regioni che ora restano in attesa del verdetto della Corte Costituzionale. È ineccepibile la prognosi di pericolosità sociale di Marcello Pittella. Questa è la motivazione con la quale la Cassazione ha rigettato le motivazioni in base alle quali era stato respinto il ricorso presentato da Pittella in merito al suo arresto nell'ambito dell'inchiesta sui concorsi truccati nella sanità. La prima sezione della Suprema Corte a maggio aveva confermato l'ordinanza con cui a fine dicembre il Tribunale del Riesame di Potenza era tornato sulla vicenda dopo l'annullamento da parte della quarta sezione della stessa Cassazione della sua pronuncia di luglio. Pittella, che è stato per oltre due mesi agli arresti domiciliari, quindi sottoposto al divieto di dimora a Potenza fino alle dimissioni presentate a fine gennaio, aveva chiesto il riconoscimento dell'assenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione delle misure cautelari nei suoi confronti con l'obiettivo di presentare una richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione subita. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Luna Lucente, il nuovo lavoro di Agostino Gerardi con Antonio Nicola Bruno. dal primo giugno con La Nuova del Sud a soli 6,30 euro. Otto canzoni di musica popolare lucana, dalle serenate alle tarantelle, per regalarvi divertimento e spensieratezza. Luna Lucente, il nuovo lavoro di Agostino Gerardi con Antonio Nicola Bruno. Dal primo giugno con La Nuova del Sud a soli 6,30 euro. E dopo la pubblicità ripartiamo dalla cronaca sorpreso fuori dalla propria abitazione mentre parlava con un'altra persona a Bernalda. Un giovane di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di evasione dai domiciliari. Su disposizione dell'attività giudiziaria, il 31enne che fu arrestato nello scorso mese di febbraio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso illegale di tre cartucce calibro 16, è stato nuovamente posto ai domiciliari. Torna a Potenza Curarte, la notte bianca della cura promossa dall'Associazione Amici dell'Hospice. L'evento in programma l'11 giugno nel Centro Storico darà voce alla cura attraverso l'arte. Il servizio è di Isabella D'Andrea. L'arte è al servizio della cura in una serata ricca di eventi artistici tra poesia, musica, danza, svariate riflessioni e una serie di spettacoli pensati sia per adulti che per bambini che si susseguiranno tra le vie del Centro Storico di Potenza. La manifestazione promossa dall'Associazione Amici dell'Hospice, giunta alla seconda edizione, vuole portare all'attenzione della cittadinanza una realtà sanitaria fondamentale e sensibilizzare sull'importanza delle cure palliative e del lavoro svolto dall'Hospice e lo farà attraverso l'arte. L'obiettivo è quello di portare a conoscenza la cittadinanza delle cure palliative e poi di allargare anche il concetto alla cura a 360 gradi. Quindi il concetto di cura sarà interpretato dai vari artisti ma in questa edizione ci sarà anche una tavola rotonda in Piazza Prefettura proprio per affrontare il tema della cura. Questa occasione è molto particolare, è la seconda edizione di Curarte di una manifestazione in cui attraverso le varie forme artistiche, musicali, di danza, teatrali, letterarie cerchiamo di far conoscere alla città la realtà del nostro hospice e promuovere anche la cultura delle cure palliative che sono quelle che noi facciamo in hospice ma la cultura della cura in generale e quindi per promuovere un percorso di cura dove oltre agli obiettivi di guarigione che non sono sempre perseguibili ci siano obiettivi di una presa in carico delle persone sofferenti e delle loro famiglie e pensiamo che la conoscenza delle cure palliative e la riflessione sul tema della cura e manifestazioni come queste possano contribuire anche a una riumanizzazione di tutta la medicina. La notte bianca della cura dopo un'inaugurazione alle ore 15 qui nell'atrio dell'hospice si svolgerà tutta nel centro storico della città ci saranno varie manifestazioni, una tavola rotonda la presentazione di questo libro a bicura che è stato realizzato da oltre 70 autori che hanno scritto sul tema della cura. Un libro al quale hanno collaborato scrittori e giornalisti non solo Lucani e che parla del prendersi cura collocandosi perfettamente in linea con quelli che sono gli obiettivi dell'hospice. Ma non solo di prendersi cura di un malato, di un nonno, di una persona che sta in fin di vita ma di prendersi cura di un albero, piuttosto che di un libero, piuttosto che di un figlio che va fuori a viaggiare, piuttosto che di una comunità di ragazzi cioè prendersi cura di tutto. Credo che sia un fondamento dell'hospice quando dice se ti prendi cura di una malattia puoi vincere e puoi perdere se ti prendi cura di una persona vinci sempre. Ed è arrivato il momento delle previsioni meteo del weekend a cura del nostro esperto Gaetano Brindisi. Salve a tutti, ben ritrovati, rieccoci qua sulla nuova tv per appuntamento meteo parliamo di questa ondata di caldo che è cominciata ieri che durerà molti giorni, probabilmente anche tutta la prossima settimana la tendenza quindi per domenica nessuna novità di rilievo l'alta pressione sempre molto in forma sull'Italia centro-medionale qualche gradi meno forse in alcune zone della regione ma per il resto cielo sereno vediamo la situazione, splenderà il sole ovunque quindi giornata ideale per i primi bagni stagionali il mare, ve lo ricordo, è piuttosto freddo però con il sole, con la temperatura così calda fuori sarà anche piacevole e possibile farsi qualche bagno di prima stagione avremo una situazione che non vede la fine attualmente i modelli non inquadrano bene la fine di questa ondata di caldo probabilmente quindi sulla base anche della mia esperienza potrebbe durare almeno una settimana di gran caldo con temperature sempre superiori ai 30 gradi a potenza e intorno ai 35 gradi a materia almeno fino a giovedì, venerdì prossimo vediamo la situazione per lunedì è una situazione che vede ancora cielo sereno su tutta la nostra regione quindi qualche nube ad evoluzione di una senza nessuna possibilità di temporali nelle zone interne per il resto una giornata ancora estiva il modello americano GFS mostra proprio per giovedì, questa è la cartina centrata sulla giornata di giovedì prossimo quindi da qui a 6 giorni nessuna novità anzi un ulteriore rinforzo quella lingua rossa denota proprio valori di geopotenziali molto alti provenienti dal Nord Africa e anche la cartina degli spaghetti per concludere questa previsione viene in nostro aiuto su questa previsione perché vedete in alto praticamente la linea rossa che sarebbe la linea media è sovrastata nettamente da quelli spaghi che indicano per almeno 7-8 giorni valori superiori decisamente superiori alle medie intorno al 17-16-17 del mese forse c'è una tendenza a un'attenuazione di questo caldo senza nessuna data di freddo intendiamoci potrebbe attenuarsi di 4-5 gradi portarsi su valori normali ma questa è una situazione che andrà rivista la settimana prossima perché per il momento nessuna possibilità di pioggia e valori decisamente estivi quindi chiodiamoci sicuramente questo weekend per andare al mare per le gite nei boschi e iniziamo a pensare comunque che sarà una settimana all'insegno del gran caldo e soprattutto le persone anziane i bambini dovrebbero evitare nei prossimi giorni di uscire perché i valori saranno decisamente caldi di moltissimi gradi al di sopra delle medie stagionali per oggi è tutto e arrivederci sulla Nuova TV e siamo allo sport a Castelluccio Inferiore la nona Coppa Pollino inaugurata dal simposio di ieri pomeriggio dopo i dibattiti legati al calcio giovanile oggi il via alle gare che vedranno impegnate sei squadre per la prima volta sul manto erboso del Vulcano il servizio è di Alessandro Panuccio con il consueto simposio ha preso il via a Castelluccio Inferiore la nona edizione della Coppa Pollino torneo nazionale dedicato agli allievi nella giornata inaugurale dibattiti ed esposizioni su argomenti legati al calcio giovanile e non solo dopo il classico saluto iniziale di autorità e istituzioni e con la giornalista Maria Paola Vergallito nel ruolo di moderatrice la dottoressa Antonella Lauria odontoiatra specializzata presso l'Università degli Studi di Siena ha parlato di trauma dentario nel calcio giovanile a seguire l'intervento di mister Bernardino Filardi allenatore UEFA B ed esperto analista tattico è quello di un guru delle panchine come mister Raffaele Di Pasquale che ha presentato la visione complessa e sistemica del calcio che ha caratterizzato la sua carriera a chiudere gli interventi il dottore Gidio Sproviero medico fiduciario figicino che è presidente dell'US Castelluccio questi ha trattato la valutazione funzionale sul campo affrontata dal punto di vista medico scientifico ma ha anche tracciato un bilancio della manifestazione abbiamo notevole difficoltà ovviamente dovute al calare sempre progressivo della popolazione locale però i ragazzi ancora partecipano alle attività sportive quindi riusciamo ad avere ancora una squadra organizzata quest'anno vantiamo però un grosso main sponsor che è quello di Terna che ci ha consentito di mantenere alti gli standard della manifestazione la novità più grande della non edizione è senza dubbio il debutto del manto sintetico del vulcano di Castelluccio Inferiore un grosso impegno c'è stato da parte dell'amministrazione su una progettualità che noi inseguiamo da anni sono almeno 5 anni che siamo dietro a questo progetto finalmente si è concretizzato e quindi ottima partecipazione di squadre quest'anno abbiamo una squadra di Ferrara che è la S di Frutteti abbiamo l'Almas Roma un ritorno al quale io sono particolarmente affezionato perché nei miei trascorsi capitolini io sono stato il medico dell'Almas Roma Juve Stabbia e rappresentativa di Basilicata che hanno ciascuna delle due vinte due edizioni ancora quest'anno a competere per la vittoria Guastafeste dell'Ordine lo Scanzano e ovviamente la nostra squadra il Castelluccio infine spazio ai premi con i riconoscimenti al calciatore del Potenza Carlos Gley Franza e con la consegna del premio giornalistico ad Antonio Croglia giornalista della Nuova ed ideatore del portale Acrocalcio ora spazio al divertimento con il calcio giocato in una vetrina per giovani talenti e siamo alla pagina degli spettacoli grande successo per la prima di Click and Slurp dell'attore comico Mario Ierace il cabarettista di Potenza è tornato a teatro con una performance da monologhista divertimento e risate fino al 10 giugno al piccolo principe di Potenza il servizio di Mara Risola Risate garantite anche un pizzico di dolcezza anche se la prova costume è ormai alle porte Mario Ierace il volto comico del Triola Ricotta è tornato a teatro con il suo spettacolo da monologhista Click e Slurp un pieno di gag esilaranti in due ore di puro divertimento durante le quali l'attore racconta la sua vita professionale da fotografo dei matrimoni nei suoi tanti click allo Slurp suscitato dalle sue gustose produzioni da pasticceria è una storia un racconto tanti racconti arricchiti anche di nuovi personaggi che si rifanno al quotidiano solleticando sempre con ironia politici e situazioni che appartengono alla nostra città e alla nostra regione la forma linguistica utilizzata ma è volgare ci ricorda il nostro essere meridionale la famiglia contadina con tutti i suoi sani principi i nostri usi e costumi del nostro popolo sì perché avevo aperto da poco mi contattò subito un'agenzia di onoranze funebri e mi disse te ne vieni con noi dai vieni che fai le fotografie hai dei fondi sul letto di morte non sempre ti dà di soldi magari un coniglio andiamo nelle campagne le uova una cosa ma non è per il coniglio che i soldi e le uova perché mi faceva senso e allora trovavo sempre scuse solo che una volta la feci proprio grossi no è morto papà insieme a mamma e il cane insomma e hanno ruotato anche la macchina mentre moriva insomma e mi ha detto ma Mari ma non ti preoccupare non ti preoccupare te ne vieni con noi intanto è l'andata siamo vacanti l'attore l'attore porta in scena personaggi imaginifici che avvoltescono fuori all'improvviso quasi come se fosse posseduto c'è la commedia dell'arte e il cabaret lo spettacolo con la regia di Pio Baldinetti andrà in scena tutte le sere fino al 10 giugno compreso al teatro Piccolo Principe di Potenza e in chiusura con Rocco Romanelli andiamo a vedere qualche appuntamento in programma oggi in Basilicata a Potenza nella sala B del Consiglio regionale alle ore 16 Festival della scrittura delle donne del Mediterraneo a Matera Sala Levi ore 16 e 30 concorso nazionale di narrativa la Serpe d'Oro a Matera centro storico ore 17 sfilata della fanfara a cavallo della Polizia di Stato a San Mauro Forte il Museo di Palazzo Arcieri Bitonti ore 18 mostra di pittura dell'artista Cesare Maremonti dal titolo Uomini di Terra a Matera Galleria via San Biagio ore 18 inaugurazione della mostra l'artista cocciuto di Giulio Lorubbio a Pignola Palazzo Marsico ore 18 inaugurazione della mostra Woman di Sant'Emauro a Potenza Sala dell'Arco Palazzo dei Città ore 18 cerimonia di premazione dei finalisti della settima edizione del concorso letterario racconti senza fissa dimora a Policoro Biblioteca Comunale Massimo Rinaldi ore 18 e 30 incontro con la scrittrice Rossella Milone nell'ambito della rassegna Amabili Confini nei Quartieri a Potenza Circolo Culturale Gocce d'Autore ore 18 e 30 presentazione del libro di Giuseppina Mellace e Dimenticati di Mussolini a Pisticci Parco Renato Gioia ore 20 partenza della Marconia Right Run a Potenza Teatro Piccolo Principe ore 21 spettacolo click and slurp con Mario Ierace sul palco e Pio Baldinetti in regia Ed è tutto per questa edizione grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata Grazie a tutti